salve a tutti benvenuti in questo tutorial oggi andremo a vedere questo simpatica estensione per windows che si chiama rocket doc cosa fa fa praticamente trasformarsi il nostro computer windows e installa la classica barra del mac come vi è mai capito di vedere un mac vedete praticamente la classica barra delle applicazioni qui al centro l'avete nella possiamo modificare mettere in alto a destra sinistra grande piccola poi lo vedremo come si fa allora questo si chiama il programma andiamo sul sito andiamo su download ci scarichiamo l'ultima versione andiamo su addon e qui praticamente ci sono altre addon che se vi va vi potete tranquillamente scaricare e installare adesso non le andiamo a vedere tutte perché il video diventerebbe troppo lungo però in caso mi fate mi mandate un commento io vi posso spiegare le varie addon ok tornando qui una volta scaricato il programma dobbiamo installarlo come si fa con tutti i programmi windows e praticamente vi apparirà questa qua con delle finestre preimpostate che poi dovremmo andare attorno e mettere quelle che ci servono una volta fatto questo voi dovete andare tasto destro impostazioni barra la prima cosa che dovete fare in assoluto se volete questa cosa come il mac attiva l'avvio cioè cosa vuol dire vuol dire che quando voi accendete il computer vi appare questa la classica barra di mac ok questo c'è da dire però che come sul task manager scusate che adesso chiudo un attimo come potete vedere andiamo qui sotto e consuma 10,6 megabyte della vostra preziosa ram ok ora io dipende generalmente almeno 4 giga di ram ce l'avete perciò insomma non è un grosso problema insomma avere sempre occupati 10,6 megabyte di ram è una inerzia ok se vi piace questo effetto vale la pena allora impostazioni barra allora come vedete queste sono le impostazioni barra andiamo sul generale mettiamo lingua naturalmente noi mettiamo italiano io molte volte lo metto in inglese molte volte in italia come dipende come mi gira allora poi abbiamo detto spuntiamo attività attiva l'avvio poi possiamo conservare le impostazioni in un file inizio a fare tipo un backup possiamo minimizzare la la finestra della barra in questo caso a noi non ci interessa però vediamo come funziona e danno ok perché a me non me lo fa perché avevo impostato un'altra cosa impostazione barra comunque qua mi vedi dobbiamo scegli anche disabili animazione minimizzata io non l'ho impostato ecco perché non l'ho visto allora questo lasciamo tutto così com'è e andiamo su icone allora la qualità bassa qualità perché potete anche scegliere qualità media scusate possiamo scegliere qualità media opacità possiamo scegliere quanto sia può deve essere opaca io ho impostato ho impostato il cento per cento se noi andiamo più così come vedete non si vedono quasi più andiamo sul cento per cento dopo di che dobbiamo tranquillamente andare su le dimensioni questo lo togliamo usate un attimo ok allora stiamo dicendo andiamo su praticamente le dimensioni cosa vuol dire vuol dire quanto devono essere grandi le icone se noi io ho impostato 53 pixel praticamente se noi vediamo così diventano troppo grandi ok poi si vedono malissimo insomma allora io ho compromesso potrebbe io ho messo 53 ma in effetti potrebbe essere anche potrebbe essere un 50 ok così non sgranano troppo poi sotto possiamo io adesso non ho tempo di andare a vedermi tutte le cose però possiamo fare gli effetti del passaggio cioè quando passiamo il mouse possiamo vedere gli effetti allora questo è in base ai vostri ai vostri gusti ai gusti siete voi che dovete impostarlo come più di voi a voi ok poi ingrandimento allora ingrandimento io io vi consiglio di lasciare 19 pixel perché poi diventa troppo esagerato ok questo lasciamo tutto così lasciamo tutto così com'è poi andiamo su posizione voi questa cosa non ce l'avete perché io ho un monitor cioè praticamente ho doppio monitor ecco perché mi appare questo posizione schermo io ho messo sotto possiamo mettere sinistra destra sopra vedi sopra così in questo modo dipende come vi piace a voi ok poi livello questo è importante perché questo vi permette di lasciarle sempre in ultimi ultimo piano lasciarli normale o sempre in primo piano ok io ho impostato questo perché mi interessa più questo e poi l'offset che sarebbe praticamente dove farla rimanere qui potete scegliere come vi aggrada di più ok e naturalmente anche la parte verticale io ho scelto 112 pixel ma voi potete tranquillamente metterla più in alto più basso dove volete voi insomma ok poi stile qui ci sono i vari temi che sono molto sono immensi perciò qua dipende da dai vostri gusti ok io ho lasciato blanche di default e perché non non ho interesse a perdere tempo nel 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 cercare mi va bene questa e rimango così quindi veramente possiamo anche selezioni fonte e opacità di mia io vi consiglio di lasciare tutto così com'è e non toccare più niente lasciamo tutto così com'è facciamo ok allora voi non naturalmente in postazione c'è un paio di icone allora intanto vi consiglio di quelle eliminarle come si fanno eliminare basta che le mettiamo fuori dalla barra essi in automatico si cancellano ok e invece pensi di dire le applicazioni nella barra basta che vuoi per esempio questa questo programma fate così e ve lo mette in automatico dentro ok poi se dovete togliere voilà risolto il problema ok allora stiamo dicendo però se vuoi per esempio avete un programma che non c'è che non sta come si dice il collegamento non sta sul vostro desktop dovete cercarlo in un altro modo prima di tutto vi consiglio la cosa più semplice che sarebbe questa andare su su windows dipende poi dal vostro sistema operativo e cercare l'applicazione installata tramite il ricerca mettiamo facciamo un esempio tipo cinque linee poi un'altra dall'applicazione la mettiamo su start ok e la mettiamo in in avvio cioè l'acchi ci clicchiamo e prevede la facciamo ad aprire aprire per capire dove è stata adesso vi faccio vedere cosa cosa intendo allora ok allora abbiamo detto che noi ci abbiamo aperto aperta questa applicazione che vogliamo mettere praticamente nella nostra barra cosa devo fare dobbiamo spingere ctrl alt e cancel apriamo il nostro task manager andiamo a vedere in questo caso l'applicazione l'applicazione c cleaner tasto destro apri percorso file e praticamente adesso che sappiamo dove si trova installato il nostro programma dobbiamo dare sulla barra sulla barra sulla barra del mac tasto destro aggiunge elemento file e praticamente andiamo a vedere dove si trova il programma che vogliamo installare nella barra allora abbiamo detto che si trova scusate non lo trovo più ok si trova in in google chrome application una volta fatto questo prete andate a incollare il file eseguibile qui qui dentro ok sapete dove si trova perciò ripeto impostazione barra elemento file e vi andate a cercare praticamente il vostro programma in questione che si trova mentre allora programmi perciò dobbiamo andare qua a cercare i programmi scusate mi sono un attimo incartato allora andiamo su programmi allora abbiamo detto che si trova c cleaner c cleaner e clicchiamo sulla sulla sull'applicazione ecco qua per magia che appare praticamente qui nella bocca e clicchiamo sulla sulla sull'applicazione ecco qua per magia che appare praticamente qui nella bocca di barra veramente a me adesso non mi serve la cancello ok molto semplice ricordatevi la cosa importante di ricordarsi che appena la scaricare di impostare che veramente si deve attivare all'avvio di windows ok sono voi perdete azioni del della barra della barra simulatrice di apple ok allora con questo tutorial è finito spero di essere stato utile commentate il video se se avete delle domande e iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto ciao al prossimo tutorial grazie grazie a